Continua a crescere in modo esponenziale il numero delle prenotazioni per il vaccino anti-covid registrate sul portale regionale da parte di operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle RSA e delle case di cura private accreditate della Toscana. Nelle ultime 24 ore si sono pressoché raddoppiate, passando dalle 38.531 unità di ieri alle 76.550 di oggi, 64.042 riguardano operatori sanitari e 12.508 invece ospiti di RSA e casa di cure. Una risposta straordinaria se si considera che tra operatori sanitari e ospiti si stima che siano oltre 120.000 le persone che in Toscana potrebbero essere vaccinate. Gli interessati che rientrano nelle categorie individuate dal governo per la fase 1 dell'immunizzazione hanno ancora tempo fino alle 12 di domani, venerdì 18 dicembre, per esprimere il proprio orientamento non vincolante attraverso il portale regionale Prenota Vaccino. Nelle 10 province della Toscana la percentuale più alta è quella di Firenze, 32,78%, quella più bassa invece Grosseto. Arezzo si ferma all'8,25%. La vaccinazione non è obbligatoria ma volontaria. Chi non si prenoterà potrà comunque fare il vaccino ma solamente nelle fasi successive che coinvolgeranno le altre fasce di popolazione.